vediamo prima come funziona poi me la faccio di escludere le regine più serie quelle di ferro mo per mo vediamo quando è efficace e qua ci mettiamo l'esc materiale da recupero quindi guardate che bellezza finalmente una bella regina dentro la trappola già mi preoccupavo che non funziona invece funziona alla grande un altro giorno non so se questo o un'altra mi è passata vicino non sono riuscito a ammazzarla però adesso eccola qua che bellezza sembra una f1 certificata con la poca e placer si me tocca io te come otra vez con la poca e placer si me tocca io te come otra vez